Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Simo Reale che mi chiede di parlare del film del 1992, sequel di Mamma ho perso l'aereo, Mamma ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York, sempre come Cali Culkin, sempre di Chris Columbus, sempre scritto prodotto da John Hughes, per un film che segue medissimamente quello che è successo nel primo, chiaramente questa volta non mollano a casa del bambino, ma mentre partano all'aeroporto i nostri vanno dalla parte e il bambino invece sbaglia e si imbarca su un altro aereo, senza capirlo perché c'ha le cuffie e tutto il resto e si ritrova a New York da solo, alla carta di credito del padre, va nell'albergo costosissimo, si mette lì, poi viene cacciato e poi un'altra volta però a New York ci arrivano i due tipi, appunto Marv e Harry, ovvero Gio Pesce e Daniel Stern, che lo riconoscono e che dicono stavolta ci vendichiamo del bambino, mentre vogliono anche praticamente svaliggiare un negozio gigantesco di regali, in tutto questo il nostro si metterà di nuovo contro e troviamo un grandissimo Tinkeri a fare il concierge dell'albergo, ritroviamo Gio Pesce, ritroviamo Daniel Stern, ritroviamo Catrionara, ritroviamo soprattutto Michael Calkin che ha fatto veramente un grande lavoro qui perché è divertentissimo e tutto il resto, certo è che questa volta gli scherzi mi sembra che vadano un attimino oltre, cioè un pochino troppo violento in quel senso, l'idea cartonistica del primo qui viene assolutamente, secondo me, superata eccessivamente da un certo tipo di cattiveria che poteva benissimo essere evitata, in più tutte le parti di quella serie lì, della parte diciamo meno divertente, sono proprio quelle della trappola, dei trappoloni che non sanno più di un cazzo, anzi i nostri due fanno più ridere presi per la strada mentre Iaccherano e lui è molto più interessante nella parte dell'albergo all'inizio, poi tutto il resto è ripetizione, ripetizione di cliché della commedia che ha avuto un talmente tanto successo che hanno deciso di riproporre alla stragrande identica con il tra l'altro il cameo di Donald Trump che nessuno voleva e che è stato tagliato sempre da tutte le versioni che stanno uscendo televisive perché nessuno ce lo vuole, proprio perché comunque al di là della politica e tutto lui si impose dicendo o fate così io non vi faccio girare nei miei alberghi erano praticamente tutti i suoi, quindi dovrebbero accettare Chris Columbus nel libro è molto incazzato con Trump perché disse lui non gliene fregava un emerita cazzo e non ce lo voleva invece ci si è voluto infilare a tutti i costi perché si sa e poi no, perché Trump si sa è una bella persona, ma detto questo quindi si è imposto se no il film non lo girate, pensate un po' voi in che stato, ma detto questo il film però ha il ritmo che funziona nella prima parte però va detto che insomma è una serie di sequelle di cose già viste, cioè purtroppo non c'è niente da fare, il risultato stavolta non funziona, non ha l'alchimia, non ha quella forza, probabilmente la città, l'essere così grande, l'essere così circondato da troppe persone, troppa possibilità di chiedere aiuto, cosa che non fa il nostro, veramente troppa, cioè vai dalla polizia e fa la finita, cioè non c'è proprio quella forza lì e poi che questi due ritrovino proprio lui a New York e sono 20 milioni, ma chi ci crede? Cioè la credibilità del primo che aveva un suo comunque, sceneggiatura gradevole nel senso che riusciva a portare a casa determinate cose qui invece è scritta un po' a cazzo di cane, tutto deve tornare per essere uguale al primo e quindi non torna quasi un cazzo praticamente, pur essendoci dei momenti divertenti per me il film è l'offio e non riesce a dare quella spinta che riusciva a avere il primo, in più si riesce ancora più a essere un po' più lacrimosi, ancora più piagnoni, ancora più conservatori e questo si affastella sul fatto che il film fa ridere molto meno del primo proprio perché è una ripetizione continua, proprio perché gli scherzi stavolta non funzionano nel metacinema, non esiste e in un certo senso non esiste nemmeno l'idea appunto di fare qualcosa di interessante e un minimo innovativo come era il primo, qui è tutto riciclato e si vede nonostante, chiaramente ci sia il mestiere di tutti quelli che lavorano, la musica di John Barry non siano male, tutto il resto, la fotografia, se come diciamo così confezione il film funziona, quello che non funziona stavolta è la scrittura, che è veramente modesta e che è salvata solo dalla ghignetta di Macaulay Culkin, che è veramente fantastico e dagli attori che comunque sono sempre tutti bravi ma per il resto ci troviamo secondo me di fronte veramente a un flop incredibile, a differenza del primo che mi era garbato, questo proprio non sta nelle mie corde, sinceramente mi sembra anche abbastanza stupidotta, detto ciò comunque il film è cult per molti, quindi godetevelo se vi va, il link è qua sotto, nella sua patria, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il puzzante del super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a Giova per l'Italia da un ridì, mammo ho riperso l'aereo vi, mi sono smarrita a New York, non funziona per tanti motivi, primo perché questi insia pisci ma lo ritrovi in New York, secondo perché lui si perde a New York quando basta andare dalla polizia, fa qualcosa e tutto torna a casa, e terzo perché veramente a un certo punto gli scherzi e tutto quello che succede più che far ridere fanno a un certo punto incazzare, fanno ma che cazzo sto guardando tutto qui, per me è un film assolutamente non riuscito che pro garbattuti sarà colpa mia